Noi abbiamo fatto una richiesta importantissima al Senato, abbiamo chiesto di cambiare il calendario d'aula per far arrivare in aula questo benedetto pacchetto anticorruzione, che mi vorrei che il collega Burtone, che devo dire, con cui ho un confronto spesso onesto e sincero, mi deve dire perché Renzi si sta incartando così a non portare avanti la riforma della corruzione. Noi non possiamo più permetterci di vivere in un paese in cui la corruzione costa 60 miliardi all'anno e nella sanità stimata 6 miliardi, lo dico perché noi siamo insieme in Commissione Affari Sociali e sulla sanità. Questo atteggiamento di Renzi e del Partito Democratico ieri ha votato contro, insieme credo anche a Forza Italia, adesso io non ho guardato bene i voti dell'opposizione ieri, però ci deve spiegare Renzi perché sulla corruzione si ferma, qual è il problema? Allora abbiamo proposte di legge ovunque, abbiamo proposte del governo, proposte del Partito Democratico, proposte del Presidente Grasso, proposte del Movimento 5 Stelle, penso ci sia anche qualche proposta dell'opposizione, non ci vorrebbe tantissimo il blocco della prescrizione, reintrodurre il falso in bilancio e aumentare le pene di corruzione e concussione e invece rimane affossata al Senato. Allora noi vogliamo capire perché il Partito Democratico entra in questa contraddizione palese di fronte a quella che è un'esigenza, penso, che converranno tutti, che è un'esigenza, diciamo, fortissima che sentono i cittadini che non si possono muovere perché è tutto un mare di corruzione. Allora, questa è la nostra posizione e è grave che all'indomani delle parole di Mattarella, all'indomani facciamo questa cosa e il Partito Democratico avrebbe potuto votare, era solo un cambio di calendario, quindi non è che era una proposta di legge nostra, si doveva solo cambiare il calendario per farla entrare al Senato ed essere discussa, e invece è stato votato contro.